Fratelli e sorelle Nerazzurri appena finita, Fiorentina 0, Inter 1, si torna primi con una partita in meno. Inter che vince con carattere, con grinta, con voglia, con determinazione, una partita difficile, una partita veramente difficile, combattutissima, dove la Fiorentina ha fatto di tutta per recuperarla. C'è stato anche un calcio di rigore per la Fiorentina, Marotta League, Marotta League, un'occasione dove c'è stata una grande parata di Sommer, che è nata da un fallo d'Inzolà su bastoni che lo spinge. Il calcio di rigore nell'area piccola, a me hanno insegnato che il portiere ha sempre ragione, e Sommer la tocca prima di prendere la testa, gli hanno voluto dare calcio di rigore, Sommer lo para. Quindi secondo rigore contro, secondo rigore sbagliato, anzi il terzo e il secondo sbagliato. Il gol lo troviamo al quattordicesimo, grande calcio d'angolo battuto da De Artis Aslani, che pennella un cross perfetto sul primo palo, dove arriva lui, il Toro Lautaro Martinez, e fa 1-0. Ragazzi, Inter che vince con voglia, determinazione, grinta e cattiveria. Siamo a più uno con una partita in meno. E domenica prossima c'è lo scontro diretto contro la Juve. Più uno su di loro e più otto sugli zozzoneri. Grandi ragazzi, grazie mille per questa vittoria, grazie mille per l'ennesima bella serata, sofferta ma bella serata. Un saluto, forza Inter e amala sempre!